Per il terzo anno Riale immagazzina la neve dell'inverno precedente per arrivare a quello successivo con una buona scorta per l'avvio della stagione dello sci di fondo. Isolamento con biomassa il primo anno ma un sistema che richiedeva molto lavoro. Lo scorso anno impiegati teli geotermici per 3.500 metri cubi di neve e in questo 2021 si continua in questa direzione. L'anno scorso abbiamo aumentato la mole di neve e siamo arrivati a 6.000 metri cubi e abbiamo acquistato ancora un po' di materiale riflettente e isolante. E niente, siamo giunti a oggi, agosto, quasi ad agosto. Potremo già comunque fare un piccolo bilancio su quello che è il risultato di quest'anno. Secondo me è un risultato ottimo perché causa purtroppo le temperature miti, neanche miti ma fredde di quest'estate. La neve si è conservata, si è conservata ottimamente, non abbiamo avuto grosse perdite. L'obiettivo massimo che sappiamo che possiamo ottenere è una perdita intorno al 25% e è una perdita che a noi consentirebbe con questa massa di raggiungere i 2,5-3 di pista. Una pista molto tecnica, una pista su cui stiamo lavorando di anno in anno, la stiamo migliorando per poter avere quelle caratteristiche tali da poter gratificare un atleta che all'inizio stagione cerca un fazzoletto di neve per poter iniziare la fase preparatoria in vista di gare e quant'altro. La neve è stato il primo progetto, il primo step. È chiaro che adesso guardiamo anche ad altri orizzonti. Alle orizzonti soprattutto nel settore estivo perché anche l'estate può essere un momento di sfogo per noi. Noi abbiamo bisogno di portare sempre più clienti, sempre più turismo in valle, anche in stagioni che sono un po' meno appetibili da un punto di vista turistico e quindi giugno, luglio e anche settembre, ottobre possono essere quattro mesi dove lo sport diventa protagonista del turismo.